Ti sei mai chiesto cosa significhi veramente essere umile? Oggi ti invito a esplorare con me il potere dell'umiltà attraverso le sagge parole della Bibbia. Ascolta tutte le citazioni bibliche di oggi perché alla fine di questo video reciterò un versetto che potrà cambiare la tua prospettiva sulla vita. Cominciamo il nostro viaggio con la prima citazione biblica tratta dalla lettera ai filippesi. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri. Questo versetto ci spinge a riflettere sull'importanza di coltivare un cuore umile nelle nostre interazioni quotidiane. Passiamo al secondo versetto, tratto dal Vangelo di Matteo. Gesù ci pone una sfida. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Questo insegnamento di Gesù ci mostra che l'umiltà è la via per ottenere vera grandezza e successo. Superare le sfide della vita richiede un cuore umile che riconosce la propria dipendenza da Dio e dagli altri. La terza citazione biblica è tratta dal Libro dei Proverbi e recita Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Questo versetto ci invita a fidarci di Dio e a mettere la nostra speranza in Lui. Quando coltiviamo l'umiltà e il timore del Signore, scopriamo una ricchezza spirituale che supera di gran lunga le ricompense materiali. Muoviamoci ora alla quarta citazione biblica, tratta dal Libro di Giacomo. Qui scopriremo il potere della grazia di Dio quando siamo disposti a umiliarci. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Questa citazione ci ispira a superare le sfide e ad affrontare ogni situazione con fiducia, consapevoli che Dio è al nostro fianco quando camminiamo nell'umiltà. E ora, cari spettatori, è giunto il momento di svelare la sorpresa che avevo promesso all'inizio di questo video. Nell'ultimo versetto biblico, tratto dalla lettera ai Colossesi, troviamo un tesoro di saggezza che può veramente cambiare la nostra prospettiva sulla vita e sull'umiltà. Il versetto dice Questo versetto ci insegna che l'umiltà non solo consiste nell'umiliarci, ma anche nel perdonare gli altri e nella capacità di accettare il perdono. La vera grandezza risiede nella nostra capacità di perdonare e di essere misericordiosi, proprio come il Signore lo è nei nostri confronti. È un invito a superare le offese, a costruire relazioni più forti e a vivere una vita arricchita dalla grazia e dalla compassione. Quindi, la sorpresa è questa. Attraverso l'umiltà e il perdono, possiamo trovare la chiave per una vita più significativa e gratificante. Che possa questo versetto ispirarvi ad abbracciare l'umiltà, a perdonare gli altri e a vivere una vita piena di amore e compassione. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Ti incoraggio a condividere queste importanti lezioni con chiunque possa trarne beneficio. Che Dio ti benedica mentre cerchi di mettere in pratica queste preziose lezioni nella tua vita quotidiana. Grazie a tutti.